Road to 100k, crypto portfolio con denaro reale periodicamente ribilanciato, episodio numero 13. Ricordo sempre che questo specifico crypto basket ricalca gran parte delle commissioni di investimento di U-Chain Digital Asset Management. Cosa rappresenta Road to 100k? Ve lo leggete, avviso, all'interno del primo episodio viene spiegato dettagliatamente l'obiettivo del crypto portfolio, il suo modo operandi e soprattutto i rischi connessi quando si replicano le sue allocazioni. Disclaimer, ve lo leggete, evidenzio nuovamente assolutamente sconsigliato ad investitori retail o investitori neofiti, disclosure, ve lo leggete, warning, attenzione, actung, le condizioni di mercato stanno pericolosamente degenerando a causa di un clima di sfiducia totale unitamente ad una fase di delirio collettivo. La glaciazione iniziata con il collasso di FTX si potrebbe purtroppo estendere fino a tutta la prima metà del 2023 e questo avrà ovviamente delle ripercussioni anche sulle price action di tantissime crypto asset. Non vi sono spiragli di luce, continua la fuga dei retails, persone che sono entrati negli ultimi mesi o nell'ultimo anno che chiudono definitivamente le posizioni, non ne vogliono più sapere di crypto, bitcoin and company. Abbiamo assistito a un flash crash nella serata di venerdì 16 dicembre a causa della notizia ritiro del rating di Masars nei confronti di Binance. Fenomeni di decoupling si stanno rarefando o rientrando, ossia quegli aspetti che avevano dato conforto nella costruzione del portafoglio stanno perdendo tutta la loro spinta e il loro momentum. I rischi asset per il 2023 saranno ancora in affanno almeno per la prima metà del 2023 e questo ovviamente avrà dei impatti notevolmente negativi, nefasti anche per i crypto asset. Vi è in questo senso un'attesa di forte lateralizzazione per il primo semestre del 2023. Ricordatevi che da adesso in poi bisognerà iniziare a costruire e concepire portafogli anche per i crypto asset concependo un'inflazione strutturale al 4% che è qui per restare. Addio al pivoting della Fed, significa dal punto di vista pratico che non è assolutamente detto per i rischi asset assistere a una fase di ripresa anche qualora la Fed dovesse iniziare a rientrare dal tightening monetario. In buona sostanza, come potete notare, arriviamo alla fine del 2022 con uno dei scenari peggiori possibili, di certo non aiutano a chi vuole valutare un ingresso anche tattico sulla criptosfera. Vediamo qual è la nuova allocazione che è stata inserita all'interno del portafoglio che tra parentesi è iniziato a diventare particolarmente sofferente. De Graffa sono stati acquistati qualche giorno fa, il 17 dicembre, 5.000 pezzi a 5 centesimi circa per un controvalore di 270 euro abbondanti. Andiamo a fare un recap come sempre all'account e siamo sotto in questo momento qua di quasi un 35% di equity negativa che sta diventando anche allarmante. Nonostante vi sia, come potete vedere, dalla torta una composizione ancora residua di quasi 1.800 euro da impiegare. Vedremo dove e come nei prossimi mesi. Ad ogni modo, come è già stato fatto menzione, il decoupling di Polygon, di Quant e anche di Chainlink è completamente rientrato. Questo significa che questi cryptoasset che nelle settimane e mesi precedenti stavano sovraperformando rispetto al mercato, adesso anche loro hanno restituito tutto il loro precedente abbrivio e questo ovviamente è andato ad impattare anche sulla equity line del portafoglio. Non ci saranno chi, i cryptoasset che stanno notevolmente sottoperformando in questo momento sono rispettivamente Solana, Avalanche e Flow e Near Protocol che sono particolarmente sofferenti rispetto ai più che sono stati precedentemente individuati. Facciamo vedere anche lo spaccato sotto forma di quantitativi, come potete vedere questi residui 1.750 euro verranno in qualche modo impiegati durante i prossimi mesi, adesso lo spiegheremo e per quanto riguarda le dotazioni abbiamo anche The Graph che è stato messo simbolicamente in staking, che andrà a modificare. Di certo l'inflazione strutturale con cui dovremmo convivere per svariati anni al 4% dovrebbe iniziare a cambiare anche le aspettative per la gestione dei cryptoasset, vale a dire nel momento in cui andate a holdare o holdare una posizione, questo deve cominciare a produrre flusso di income. Passiamo a fare l'ultima considerazione di merito, come potete notare ormai il cash operativo è ridotto al 18% dell'investimento iniziale, abbiamo un drawdown massimo che si è steso oltre il 35%, non sono previste nuove allocazioni per i primi tre mesi del 2023, questo significa che la liquidità residua verrà ridistribuita sotto forma di aumento di peso strategico per adesso rispettivamente o su flow o su band protocol o su quant network. Le proposte di aumentare il capitale complessivamente di rischio sono state tra virgolette bocciate dalla community o da chi sta seguendo questo esperimento con denaro reale, sostenendo che si è partiti con importo, si deve continuare ad andare avanti con questo e ad ogni modo, anche se siamo in drawdown di oltre il 30% non è niente in confronto al drawdown che stanno avendo alcune cryptoasset in questi ultimi due mesi o peggio ancora al drawdown che hanno anche alcuni fondi specializzati in equiti che stanno investendo anche in società e titoli azionari che sono collegati contigui con il mondo dei crypto markets. Non verranno prese in considerazione né tantomeno coperture o almeno coperture per l'esperimento, io coperture a titolo personale ce le ho già in corso da qualche settimana, però non verranno utilizzate o richiamate per questo specifico esperimento perché la maggior parte degli utenti non vuole addentrarsi su quelli che sono i temi legati alla costruzione di una protezione, l'apertura di posizioni con trading account su Dex e così via discorrendo e da questo punto di vista li capisco. Continueremo ad andare avanti, lo ricordo ancora una volta, guardate che le prossime settimane, adesso c'è grossomodo l'ultima decade dell'anno, ma nelle prossime settimane potremmo ulteriormente aggravare il quadro, si potrebbe ulteriormente aggravare il quadro sul versante crypto, soprattutto richiamando ai dischi per Bitcoin provenienti da Grayscale che potrebbe liquidare posizioni particolarmente monstre di Bitcoin, si parla, si dice, pare che oltre 600.000 pezzi che potrebbero inondare il mercato, fate un po' voi le rispettive considerazioni. All'inizio del 2023 faremo un recap sui primi sei mesi di vita di questo esperimento con analisi anche di alcuni quozienti finanziari e proviamo a valutare dove andare ad aumentare il peso strategico complessivo. Probabilmente sarà Flow che a mio parere è una delle blockchain in questo momento più sottovalutate in assoluto. In descrizione e in background ulteriori elementi di approfondimento per quanto riguarda l'outlook di mercato di alcune blockchain.